Buongiorno ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi voglio andarvi a illustrare i migliori look, qualche insomma look che ho trovato e che ho registrato all'interno del PT Uomo svoltosi ora quest'estate esattamente dal 12 al 15 di giugno 2018 e in cui sono andato a partecipare e a registrare questa tipologia di video come leggerete già dal titolo quindi in questo video andrò a illustrarvi qualche look in ambito streetwear che mi è piaciuto molto all'interno della fiera e che quindi ho registrato, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di determinati abbinamenti di questi look in quanto alcuni pezzi sono hype, sono un po' tutti quelli che noi avremmo voluto acquistare nella data di uscita oppure abbiamo già nell'armadio senza dilungarmi troppo quindi concludo questa breve spiegazione, il filmato sarà di 3-4 minuti circa e mi raccomando ragazzi commentate alla fine del video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, bella Ciao! Volevo salutare il canale Sì sì sì, ormai siete avanti Volevi salutare il canale Beh, come si chiama il canale? Alessio Sicurani Alessio Sicurani che fa dei video raga Pazzo Ciao raga, non ho mai visto dei video così La prima volta che ho visto il segno è detto Adesso ti faccio il cuore Mi pare che un po' allora ti faccio, aspetta Fammi la doccia fuori campo Sì, scherzo E oggi Ti parliamo di Matt e Bise? Sì E quest'oggi al PT Uomo abbiamo Matt di Matt e Bise Bellissimo, grazie mille Vabbè c'è anche Bise, ciao Grazie mille Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.